buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video in realtà io ho appena finito il raduno a sassi oggi abbiamo fatto vari trail su vi lascio al video buona visione no mai Grazie a tutti I freni non stanno tanto ringraziando Questa è tutta la discende così Ma io guardo te Quando alzi la stella io l'alto Quando la basso capisco di abbassare Questa è tutta la scuola 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 Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti